Giurare fedeltà alla Repubblica non è uno scherzo, incarna i valori di realtà, onore, amore di patria ed è per questo motivo che a voi vi era chiesto sempre di onorare il vostro giuramento fino alla fine. Nessuno vi ha chiesto di essere qui oggi, nessuno vi ha obbligati, se siete qui è perché lo avete scelto, avete scelto di diventare decomandanti. Noi non siamo qui alla ricerca di eroi, siamo qui alla ricerca di uomini e donne che amano servire il proprio paese. Vi ritroverete ad affrontare difficili situazioni, complicate, sarete costretti anche, a volte, a dover mettere a repentaglio la vostra vita, è inutile che ci giriamo attorno, questa è la vita del comandante. ciò che conta è farlo con la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo e almeno di averci provato, è questo che vi renderà diversi, è questo che vi renderà migliori. Grazie per quello che farete, ma soprattutto per come lo farete. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi, di riadempiere con discipline d'onore tutti i doveri del Stato, sulla difesa della patria e la salvaguardia delle tutte istituzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.